Siamo qui con Saida Zrucchi della Ressurrezione, una partita che è andata male, il primo tempo però siete riuscite a mantenere un risultato abbastanza equilibrato e a costruire tante occasioni, così come sul finire di partita. Cosa ne pensi della prestazione? Abbiamo iniziato bene, ma dopo i due gol che abbiamo preso, uno dopo l'altro, abbiamo un po' mollato. È vero che è venuto un po' a mancare il gruppo, soprattutto nel secondo tempo, si è visto che la palla cercava di girare sempre dai tuoi piedi, hai fatto comunque una bella partita dove pensi di dover migliorare magari per il futuro? C'è da migliorare molto nel gruppo, tutta la squadra, ci stiamo provando, le prossime partite speriamo andranno meglio. Il gruppo comunque a fine partita si è trovato, vi siete dette due parole, sicuramente c'è la voglia di migliorarsi e fare buoni risultati in futuro, pensi che potreste farcela? Sì, sì, siamo un buon gruppo e ce la possiamo fare. Grazie mille, buona serata. Grazie.